bella a tutti ragazzi sono zephylos blast a casa mia giochiamo un po a minecraft allora perché ok comincia già laggando che bello sì siamo qui dove eravamo l'altra volta tra un po' farò anch'io i video tranquilli sì certo qui fa solo zephylos blast perché chi non fa un cazzista schifoso no scherzo dai dobbiamo andare a cercare il carbone ok io mi servirebbero delle torci non vedo un cavolo letteralmente quando sentite il joystick che si muove in mano a clicchi non so se lo sentite perché già si sente pochissimo sul microfono lo devo cambiare tranquilli ragazzi lo cambierà presto due mesi dopo no ma va a cagare allora vabbè dovevo fare una porta come cazzo si fa la porta ah così forse si ho azzeccato non ci cosso non ci cosso credere ok carlo non ci cosso non ci coa credere ok va benissimo mi serve delle torce quindi ok basta lasciamo perdere i kamikaze musulmani andiamo avanti noi parliamo invece di minecraft no noi parliamo di kamikaze musulmani è giusto sai gabri che mi sa che la tua voce si sentirà proprio pochissimo perché mi si sente pochissimo sul microfono già da vicino quindi mi dispiace gabri ok perché spacco la terra con l'ascia non lo so ok mi sto facendo del male ragazzi mi sto facendo del male dovete sapere che io su cod sto morendo un po' di volte perché non sento o le pausibetti tutte le persone che vicino perché mi ha fatto abbassare il volume quindi io non sento eh non posso giocare con minecraft con il volume dietro c'è chi la terra c'è scusami eh vabbè dovevo fare le torce è male per chi vuole saperlo ma nessuno interessa ciò che faccio io nella vita quello è sicuro eh sto giocando a decisioni confermate mi stanno aggando quello è sicuro ti erano sempre non sei capace a giocare quel game non è vero no non è vero no e muore ok sfigato certo sei te che l'hai messa al 3 eh eh ma la volevo provare è che non sai giocare mi piace troppo penderti eh a me piace più da ok mi fido di te guarda le tue risse a me ci fa cagare diamante è come la mia però la mia è il diamante long sì certo chiaro io puoi dire che è stato diamantato stai zitto quando? eh non ne ho ancora fatti stai zitto me ne mancano due eh però non so comunque diamanti anche me ne mancano due calcola è come diamante sì si lasciamo cociere qua la cacca e andiamo lì sotto ragazzi finalmente vedrete qualcosa uuuuuh 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 le torce Zeffi ha messo una torcia ok basta mi scommetto che il carbone a questa altezza non lo troverò mai stiamo facendo 87 no 89 buono lasciamo questa torcia qui siamo più al sicuro allora per chi lo vuole sapere il mio prossimo video sarà lo switch arma mi perchè lui ogni volta che muore cambia arma no una volta che faccio una killer cambio l'arma ok ragazzi tirano la stessa arma per tutta la partita va bene vedremo vedremo lo faccio io lo switcharmi devo cambiare arma 700 volte al secondo e non muore no lo uccido ehm beh ehm 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 cosa? no e che ho il video quindi no vabbè ehm come un video che ho visto l'altro giorno uuuuuh ferro che culo di merda seee il ferro seee sempre di più seee cioè io già tanto si trova il carbone su minecraft io non ho ancora trovato il carbone ho trovato il ferro ahahah va bene stavo cercando il carbone ho trovato il ferro vabbè allora mi sa che qui succede qualcosa di strano allora ok c'era di lì che tu sei a livello master io sono il prestigio 6 ehm 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 ma lo so anch'io vabbè che merda la mazza ehm 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 sfigato depramato mentale mostriciattolo quello hai capito cosa? bravo vedi che te mi capisci sempre sei l'unico mimico che mi può capire guarda ti amo perché ho trovato una caverna di sabbia che figata assurda non lo so eh ragazzi mi dispiace ma tu hai il corpo di buca? no ho la skin di un cavaliere ma io dalla mano ho capito che è una mucca si zeppi è una mucca va bene ti avranno ascoltato in tanti mi interesseranno a molti di quello che hai detto ma perché ci sono le caverne piene di sabbia? io voglio capirlo ma scoperta cazzo un creeper si deve crepare quel creeper del cavolo no perché lol che cosa ho fatto? da dov'è che devo risolvere? ah da qui no what the fuck va bene noi siamo lesi ragazzi spero di portare avanti questa bellissima serie ah ma è notte è notte dormiamo allora tac alzati dal letto sto cazzo e vabbè quello è importante ok mi spieghi perché non hai messo il cp balistico al perché lo uso per fare quick trick online ah ragazzi prima o poi vi porterò un cavolo di fototissimo trick online su black cock 2 devo come muori guarda chi cazzo mi ha ucciso come un pompa vabbè non lo sento ve lo porterò altri trick online ve lo porterò per adesso li faccio in privata questo qui è un messaggio subliminale nei video di sniper gaming tv tan 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 basta andiamo giù torniamo in mine in mine mine miniera mi gratta il naso ok mi brude il naso ok ma si come come ok ragazzi andremo a sconfiggere i creeper adesso devo fare mi gratta il naso ma è il mio è il mio brutto massaggio muori ok brutta merda di creeper crepa 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 perchè esplode quando mi sono allontanato se noti anche il nome sono fatti per crepare e per esplodere uh ferro di nuovo ma che culo di merda che ho oggi perchè ho buttato il piccolo per te perché sei un ladro di medaglie oh va che abbiamo già un botto di ferro siamo già a 10 11 e bom oh no 12 oh quanto cavolo ce n'è qua sotto che culo di merda non è baggato ce n'è un botto ce n'è sparso però ce n'è mamma mia che non ho scoop però mi hanno ucciso è bello che non ci sono neanche mostri non è perché tipo ho sparato a casa ho fatto un mostro e poi mi hanno ucciso lol altro ferro ok siamo già 8 minuti di video fai uno stick di ferro stack stack mangiamoci le bistecche di ferro va bene poi io le chiamo stecnos perchè ci sono di slime non avevo mai visto uno in survival ok grazie della palla di slime finalmente il carbone se altro slime ma che cavolo volete da me oh no ci sono pure gli zombie qua sotto entra se vuoi come on eeeh eeeh odio le caverne piene di mobs faccio i drops adesso il carbone lo prendono più tardi perché ho già il piccone distrutto tutto devo prendere più che posto poi torno su faccio i drops dei morning drops certo vabbè vediamo il suo carbone scusate ragazzi ma questi video li posso fare minimo da 10 minuti perchè devo ancora comprare bandicam scusatemi e vabbè da Zefi è tutto bella ragazzi che vabbè che vabbè